ciao ma ora che bello vederti milano golway step by step non tutti gli step però diciamo cerchiamo di fare una sintesi perché ti vedo in questa in questa così location molto irlandese sì ho scelto di farvi vedere il bovindo che è la parte più bella della mia casa e ovviamente non dico che è uno dei motivi per cui sono venuta qui però è una cosa che ho sempre sognato di avere e quindi sono molto orgogliosa di mostrarvela mi spiace che ci sia un po di controluce però fortunatamente la luce qui diciamo è sempre un po schermata dalle nuvole quindi ce la possiamo ti ascio il palco grazie allora cominciamo subito con tough alter roots che se ho pronunciato bene e sicuramente no siete benvenuti e benvenute in irlandese perché se siete stati stati in irlanda sapete che l'accoglienza è una delle caratteristiche più distinguono questo questo popolo e quindi mi diceva l'idea di darvi il benvenuto nella nella loro vera vera lingua qui a golway quello che farò oggi come diceva appunto alessandra è raccontarvi un po il mio percorso di visita e di storia che mi ha portato da milano a golway quest'estate sono qui da luglio e perché magari questa questo racconto può essere di spunto o di ispirazione o di diciamo così caution per come cose da non fare per chi magari sta pensando di fare una scelta di questo genere mi presento sono maura sono cresciuta all'aquila ho vissuto a milano per 15 anni prima di trasferirmi qua a golway ho 46 anni e sono una copywriter content strategist qui in irlanda lavoro con clienti italiani ho mantenuto tutti quanti i miei clienti che avevo in italia prima di trasferirmi qualcun altro è anche aggiunto e non ho per ora clienti internazionali o irlandesi questo mi porta a fare un disclaimer prima di cominciare il racconto che è che l'esperienza che vi racconto oggi è l'esperienza di una persona che ha scelto di trasferirsi per passione e non ho scelto golway perché avevo un lavoro qui o perché cercassi un'opportunità professionale specifica in irlanda o a golway ho scelto di venire a golway perché era il mio sogno perché l'irlanda per tanti anni è stato il mio sogno e di fatto questo talk dovrebbe chiamarsi diventare freelance per inseguire i propri sogni ad essere onesti perché dal momento in cui ho scelto di venire qui a quando poi sono riuscita a farlo in realtà ho consapevolmente o meno cambiato tante cose della mia vita e la prima che ho cambiato il primo grande cambiamento è stato sicuramente più importante diventare una freelance perché sono stata impiegata per quasi tutta la mia vita fino a 41 anni di età e nel 2017 mi sono licenziata dall'agenzia di comunicazione in cui in lavoravo ho speso una parte della mia liquidazione per venire per la prima volta in irlanda ho affittato una casa sono stata un mese a cork e sono stata cork invece di girare per l'irlanda e innamorarmene come poi ho fatto comunque perché volevo provare ad assaggiare la vita da residente volevo essere sicura per quanto si può essere sicuri dopo un mese ovviamente che fosse un qualcosa che in cui mi riuscivo a vedere quindi ho cercato la novità la bellezza le avventure ma anche la noia la banalità le cose quotidiane la spesa tutte quelle cose comunque più noiose e per sperimentare se veramente questa cosa mi mi poteva dare soddisfazione inutile dire che la risposta la sapete e sono andata via da cork sapendo che sarei tornata in irlanda un mese dopo ho chiamato la commercialista e abbiamo aperto la la partita iva da lì cosa ho fatto ho lavorato 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 per guadagnare quanti più soldi possibile volevo mantenere volevo raggiungere una stabilità economica che mi permettesse di realizzare il mio sogno perché ero convinta che mi servisse mollare tutto e ricominciare da un'altra parte da zero quindi non poter continuare il mio lavoro e questo ovviamente era una preoccupazione che per tanto tempo mia mi ha trattenuta ed è una preoccupazione sbagliata come sappiamo e però per me c'è voluta la pandemia per scoprirlo in realtà è brutto dirlo però per me il covid è stato il deus ex macchina che mi ha dimostrato che in realtà non avevo bisogno di ricominciare da capo che il mio lavoro poteva seguirmi dovunque sarei voluta andare specialmente in un posto ad un'ora soltanto diffuso orario da dall'italia ed è stato anche diciamo quella cosa che ha attivato quella vocina nel retro del cervello che succede dopo i traumi e le catastrofi e che è se non ora quando per cui il tempo passa le cose le devi fare falle e quindi questo è il motivo per cui più o meno l'anno scorso di questo periodo ho dato voce al mio desiderio per la prima volta parlandone con mia sorella gli ho detto claudia l'anno prossimo estate a luglio vado golway e lei mi ha detto ma ora era ora perché perché lo sapeva benissimo che questa è la cosa che volevo fare ma che per tanto tempo era stato soltanto un sogno e nel momento in cui invece gli ho dato un nome gli ho dato un'intenzione gli ho dato un luogo e una data soprattutto quel sogno è diventato un progetto e quindi da quel momento ho cominciato a pianificare e quindi a rendere le cose davvero reali fare i preparativi per me da quel momento in poi ha significato sostanzialmente darmi le risposte a tre domande fondamentali tre macro domande cosa cambia cosa porto cosa lascio e cosa cambia grossomodo può essere tutto a casa la residenza il lavoro la situazione sanitaria il fisco e you name it e in realtà trasferandosi da un paese dell'unione europea a un altro mi sono resa conto che c'erano delle cose di cui fortunatamente potevo non occuparmi comunque non in maniera radicale cioè che non richiedevano azioni da parte mia i documenti i visti la salute sono tutte cose che fortunatamente santa unione europea noi abbiamo facilmente a disposizione anche in un altro in un altro paese e quello che cambia invece erano le cose che riguardavano la casa e il lavoro per cui la prima cosa che ho fatto è stato parlare con la mia commercialista e decidere con lei che cosa fare abbiamo deciso nel mio caso di mantenere la mia partita viva italiana almeno fino alla fine di quest'anno per poi valutare nel 2023 il cambio di residenza l'iscrizione all'aire e l'apertura di una posizione irlandese parlato con i miei clienti la mia preoccupazione era che magari loro non volessero continuare con me visto che comunque andavo all'estero ed era una preoccupazione fortunatamente inutile però ci ho tenuto a dare loro il massimo del preavviso possibile approfittando anche della fine dell'anno e quindi di cambi magari di contratti di ridiscussioni per dare loro la possibilità comunque di gestire la transizione anche come fosse più comodo per per loro e sono rimasti tutti quanti come come a grande gioia e poi la l'altro grande cambiamento è stato la casa se per caso avete desiderio di venire in irlanda sappiate che qui la situazione housing è tra le più difficili di tutta l'europa e io vengo da milano per cui diciamo dovrei conoscere bene le le difficoltà e ho parlato con il mio padrone di casa a milano e sono riuscita con lui a concordare la possibilità non solo di dargli la disdetta ovviamente nei tempi di legge ma anche di avere un gioco di uno due mesi da decidere anche all'ultimo momento per tenermi quella casa perché perché ho realizzato subito che non avrei mai potuto trovare una sistemazione definitiva o comunque di lungo periodo a golway stando in italia avevo bisogno di andare lì e di cercarla lì che vuol dire cosa vuol dire non posso portarmi tutte le cose che vorrei portarmi quindi vuol dire che devo lasciare da qualche parte quindi vuol dire che mi serve una casa a milano quindi vuol dire che devo pagare l'affitto per qualche mese in più mentre cerco la casa a golway oppure avere uno storage per cui parlare di queste cose e visualizzarle realizzarle fin da da subito con tanti mesi di anticipo è stato utile perché comunque mi ha aiutato a sistemare il mio budget in maniera molto più realistica e anche a capire che c'erano delle cose che potevo controllare da qui e su cui potevo lavorare e altre in cui non avevo diciamo nessuna agency e quindi tanto voleva smettere di perderci il sonno e quindi questo è il motivo per cui in realtà il resto dei miei preparativi è stato dedicato alla mia casa alla mia situazione a milano e quindi a rispondere alle altre due domande che vi dicevo prima cosa porto e cosa lascio e ho trascorso mesi a decidere che cosa era indispensabile per me da tenere e che cosa invece potevo lasciare andare ed è un'operazione diciamo che sono sicura che molti di voi hanno provato in vari in vari contesti in varie situazioni e non è per niente di facile però è anche liberatorio quello che ho fatto io è stato dividere le cose da portare subito immediatamente con me cose di lavoro il computer vestiti il banjo e cose che invece avrei spedito una volta arrivata a golvi e trovato una situazione una situazione stabile abitativa e poi le cose che invece sono ricordi cose importanti che so che voglio tenere per me per il mio futuro però che non mi servono e quelle sono in questo momento in una casa in montagna che per fortuna ho a disposizione e questo diciamo riassume la parte dei preparativi che ho fatto che si sono completati con il sopralluogo che io consiglio a tutte le persone che vogliono trasferirsi e penso che sia abbastanza anche intuitivo volevo assaggiare la città di golvi volevo respirare l'aria e anche conoscere quante più persone possibile prima di trasferirmi perché comunque volevo costruirmi una rete ancora prima di arrivare e quindi a maggio dell'anno di quest'anno in quest'anno subito dopo il freelance camp di fatto ho preso sono partita sono stata una settimana golway e ho fatto una serie di incontri con tutte le persone con cui ero riuscita ad entrare in contatto amici di amici colleghi persone che ha conosciuto su facebook per conoscerli sentimi raccontare della città chiedere a loro informazioni e soprattutto spargere la voce sulle mie necessità abitative soprattutto e ho studiato la città a fondo io non ho la macchina mi muovo a piedi per cui per me era fondamentale capire quanto è grande la città quali sono i collegamenti come sono quali zone possono essere più utili per me in cui cercare casa e quali invece è e poi ovviamente oltre a divertirmi bere birra e sentire musica ho capito quali sono le qualità anche culturali la scena diciamo così culturale turistica artistica della città che sono i settori che anche professionalmente mi interessano di più perché un futuro non si sa mai facendo questa cosa ho scoperto che c'era un festival che si sarebbe tenuto a luglio proprio nei giorni in cui io prevedevo di arrivare a golway che accettava volontari per cui mi sono iscritta come volontaria per fare appunto del servizio durante questo festival e questo ha significato che il giorno dopo il mio trasferimento a golway quindi in un momento che sapevo che sarebbe stato completamente testa per aria avevo comunque una cosa concreta da fare una cosa bella in cui avrevo avere conosciuto persone avrei visto la città avrei fatto delle cose belle e questa cosa è stata per me fondamentale perché comunque sia per la mia sanità mentale sia perché comunque mi ha portato delle conoscenze delle amicizie che ci sono ancora adesso e che ovviamente mi sono state utili sotto tanti punti di vista compresa la casa perché arriviamo al momento di luglio della mia transizione così come la voglio chiamare della soglia come la chiama il mio psicoterapeuta e ho trovato una caccia sono arrivata a golway sapendo che la casa già mi aspettava perché grazie alle relazioni che ho tessuto diciamo nei mesi precedenti e alle amicizie costruite avevo una casa che mi aspettava per due mesi ha una cifra anche molto ragionevole che mi ha permesso di tenere la mia casa di milano per due mesi in in più senza diciamo così svenarmi completamente e nel giro di un mese qui a golway sempre grazie al santo sempre santissimo passaparola sono riuscita a trovare un'altra casa che è quella in cui sono adesso che invece più stabile in cui spero di restare a lungo e in cui a gennaio mi spedirò le cose che sono rimaste ancora a milano in casa di un'amica per fortuna e perché a settembre non sono riuscita a farlo come era nei miei piani perché questa casa non era non era pronta per cui diciamo che il piano tutto sommato ha funzionato e l'ultima cosa che voglio dirvi perché comunque penso che sia tra tutte le cose la più importante almeno per me è quella che io chiamo la mia strategia personale di ambientamento e di insediamento diciamo così nella nella nuova città nel nuovo mondo della nuova vita e che è la strategia che ho chiamato apri tutto come boris insegna cioè aprirsi completamente parlare con tutti raccontare la propria storia ascoltare cercare ogni occasione per conoscere persone per creare relazioni umane e io sono l'introversa per cui diciamo detto mi ha molto valore perché ho scoperto ho imparato che uno dei motivi di fallimento del dell'espatrio per molte persone è proprio la difficoltà nel sentirsi a casa in un altro posto nel sentirsi accolti e nel riconoscersi in un posto e aprirsi e aprire e fare entrare e dialogare sono le cose che più possono aiutare nel raggiungere invece questo questo obiettivo e per me avere una rete fondamentale sociale era fondamentale ho cominciato molto prima di partire a costruirla e continuo ancora adesso e so che ho fatto bene che sto facendo bene ho finito no non ho finito perché l'ultima cosa che voglio dirvi è avevo detto all'inizio che questo speech avrebbe dovuto chiamarsi fare la freelance per inseguire i propri sogni e i miei sogni come alcune persone che mi conoscono sanno hanno a che fare con la musica per me l'irlanda era la possibilità ed è la possibilità di fare della musica ascoltata studiata suonata il centro della mia vita l'asse intorno al quale ruota la mia la mia vita e in irlanda più che in ogni altro paese che io abbia mai conosciuto questa cosa è possibile ed è bellissima e la settimana scorso ho avuto l'opportunità di salire sul palco di un pub qui a gol molto importante e di suonare cantare insieme a una musicista irlandese che che io stimo moltissimo e che ho l'onore di chiamare mio mio amico e lui si è fidato talmente tanto di me da sorpresa senza averlo deciso prima come si dice chiamarmi sul palco per suonare insieme a lui e quello è stato per me momento uno dei momenti come potete immaginare più emozionanti più gratificanti di tutta la mia vita e questo per dirvi che appunto il piano sta funzionando bene e con questo ho finito grazie grazie davvero ma ora per questo bellissimo una cosa mi ha colpito veramente tanto questa cosa di dire arrivo in un posto e la prima cosa che faccio è fare volontariato per così perché questo mi farà conoscere delle persone che poi la logica del prima do e senza preoccuparmi di calcolare esattamente che cosa mi tornerà in cambio ma veramente dare e condividere le proprie energie è la chiave per attivarne tantissime altre e questo penso sia stato sempre lo spirito anche del landscape grazie davvero grazie in irlanda venite dove vuoi è bellissima grazie 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 grazie